A dicembre l'Istat stima che il fatturato dell'industria aumenti del 2% rispetto al mese precedente. Nel quarto trimestre l'indice complessivo è cresciuto dello 0,9% rispetto a quello precedente. L'aumento riguarda in particolare i beni intermedi, quelli di consumo e strumentali, mentre si registra un calo per l'energia. Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale scende su base annua dello 0,1%, sintesi di una diminuzione dello 0,8% sul mercato interno e di un incremento dell'1,1% su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 18 contro i 20 del dicembre 2022. Nel comparto manifatturiero gli incrementi su base annua maggiori si registrano nei settori dei computer ed elettronica e in quello delle apparecchiature, mentre le flessioni più marcate si riscontrano nel comparto della chimica e del settore dei prodotti petroliferi.